Confermo l'involuzione della taglia vincita e l'osciata. Protocollo di sicurezza. Pacco rotto in tratti. Pacco mancante. La torre fa a taglia del trisposso. Pre definizioni immagini. Delà e centrale guanti. Confermo risoluzioni della taglia ombra gemella. La torre riattiva a taglia dell'infettazione dei caduti taglia prima l'ucce. Non importa cosa fa per la loro tute. Il cora Ray è una strega terrorista. Avanza. La torre segnala taglia non riscattata dell'avanzo di Islan. 32 minuti di ritardo. Grazie. 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 Interruzione risolta. Ciao. Un'altra crisi? Credo che la sposteranno. Abbi cura di te. Mi fido della tua preparazione. Taglia chiuda. Ti sento. Il tuo aiuto è pazioso. Grazie. 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 Parla di noi agli altri. Se션i. Seoshima maglini. Grazie. Ecco. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come posso aiutarti? Al prossimo incontro. Grazie a tutti. Dunque sei tu l'assassino di Oryx? Sembra molto solida, guardiano. È sempre molto interessante. Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. . a tutti. 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 a tutti.